È nato a Roma nel 1938. Pittore, scultore e scenografo Enrico Binagli, artista contemporaneo, è legato alla provincia di Frosinone, dove ha insegnato negli anni 70 gli studenti del liceo artistico Ciociaro. Le sue opere divertenti e frizzanti, quasi favolistiche, trovano spazio a Frosinone in una mostra allestita alla Villa Comunale e curata da Alfio Borghese. Noi con il terzo anno di attività qui alla Villa abbiamo notato che sia un po' aperto addirittura il mercato della cultura. Cioè questa iniziativa che è nata e che era un po' quasi unica in Ciociaria ha avuto subito degli sviluppi grandi con tante altre mostre fatte anche nelle strade di Frosinone, nei vari centri artistici come Veroli, come Alatri. E questo credo sia un dato molto positivo. La mostra trae il titolo dalla Conta delle Stelle, una delle opere che, più delle altre, riesce a raccontare lo spirito che muove l'arte di Enrico Binaglia. Ho portato questo quadro che è un po' la sintesi di tutta la mia pittura. La Conta delle Stelle è l'impossibilità di contarle, l'uomo rimane, ma rimane quasi un ruboio che continua a contare perché le stelle sono infinite, però ci piacciono, a me piacciono, mi fanno sognare, mi fanno spaziare. L'appuntamento con l'arte di Scena alla Villa Comunale di Frosinone ha trovato il sostegno delle istituzioni, quelle provinciali e comunali. Ci entusiasmiamo volta per volta nel vedere le opere esposte e gli artisti che espongono, quindi una cosa ben riuscita per la città e per l'amministrazione. I visitatori potranno accedere alla musta gratuitamente fino all'8 giugno, ma intanto già si pensa al prossimo appuntamento con l'arte. Il prossimo appuntamento è un giornalista e critico del messaggero, Danilo Maestosi, che è anche grande, con uno stile completamente diverso perché è astrattismo e pittura onirica.